L'arrivo della Next Gen sta portando anche, ovviamente, i videogiochi Next Gen nel mercato, anche se soltanto all'inizio e anche se in pochissimi casi. Di fatto le esclusive per le console Next Gen sono davvero pochissimissime, sia per PS5 che per Xbox Series X, anzi, per quest'ultima credo che non ci sia assolutamente niente di esclusivo per ora, al momento in cui vi sto parlando, magari mi sbaglio, correggetemi nel caso, però non penso che ci siano e anche se ci sono, in generale sono pochissime, ok? Uno dei giochi che si dice che sia effettivamente uno dei primi ad avere una caratteristica Next Gen è proprio The Medium. The Medium è un gioco che sta uscendo per l'ecosistema Microsoft tra pochissimi giorni, è il 28 gennaio, la data di uscita di questo gioco, sviluppato da Blober Team, è un horror barra avventura, se ho ben capito, un horror psicologico. Da molti punti di vista dovrebbe essere questa la caratteristica. Questo titolo ha la caratteristica di renderizzare due mondi insieme, in una maniera che deve essere mostrato per farla capire completamente. Nella fattispecie la protagonista si sposterà da un piano all'altro di esistenza, sostanzialmente, e in alcuni casi, come quello che state vedendo adesso in parte, si sposterà contemporaneamente all'interno di questi due mondi. Attraverso la soluzione di enigmi e cose del genere, voi dovete giocare con due personaggi completamente identici per quanto riguarda i movimenti, ma con uno scenario che cambia perché sono due mondi diversi, di fatto. Ora, i requisiti per PC di questo gioco sono effettivamente abbastanza altini. Come mai però? Perché molti sono rimasti un po', diciamo, basiti dal fatto che questo gioco qui, che non sembra proprio uno di quei mega giganti AAA di ultimissima generazione, abbia dei requisiti che sono più alti di tanti altri giochi, molto più grandi, usciti anche molto recentemente. Come mai questo? Verifichiamo. Perché The Medium ha requisiti così alti su PC? Lo spiega proprio Blober Team, che è lo sviluppatore. Durante un'intervista concessa ai colleghi di VG2407.com, il lead designer ha spiegato il perché di questi requisiti e la motivazione da ritrovarsi in una delle meccaniche distintive dell'opera, che è il doppio mondo. Sappiamo infatti che una delle caratteristiche di The Medium sarà la possibilità di interagire con una realtà altra rispetto a quella abituale e normale in cui si svolgono gli eventi, nella fattispecie. Le parole sono Stiamo renderizzando due mondi contemporaneamente e se le persone vogliono anche renderizzare quei due mondi tenendo attivi l'HDR e il ray tracing, allora serve un hardware davvero potente. Non vogliamo tirare fuori dei requisiti su internet e dire sì, girerà bene sulla vostra scheda per poi scoprire che non è vero. Il nostro gioco si sposta tra un mondo e l'altro. A volte sei in un mondo, a volte sei in entrambi contemporaneamente. All'inizio, quando lanci il gioco sei in un mondo solamente. Poi a queste situazioni in cui sei in due mondi e ne vengono renderizzati due insieme e se ci sono dei drop di frame non va bene. Dobbiamo sempre calcolare le specifiche tenendo a mente le situazioni più pesanti da gestire. Ecco perché i requisiti sono così alti. Ora, ragazzi, questa spiegazione è perfettamente comprensibile perché effettivamente se devi renderizzare due mondi insomma serve la potenza per farlo. Badate bene, purtroppo è la realtà che molto spesso gli sviluppatori quando si tratta di comunicare alla stampa certe cose utilizzano un pochettino di scuse e utilizzano queste scuse per il mancato lavoro di ottimizzazione che deriva spesso dal mancato budget, dal mancato personale, dal tempo non sufficiente per ottimizzare adeguatamente un certo titolo su una certa piattaforma o su multiple piattaforme mi viene da dire però che questo non sia necessariamente il caso perché io credo che il fatto di dover renderizzare due mondi sia perfettamente comprensibile cioè sia perfettamente comprensibile il fatto che richieda un hardware abbastanza potente. Per quanto riguarda il valore next gen proprio quello dei due mondi vorrei spendere un paio di parole al di là della semplice news dei requisiti pc abbastanza altini ovvero questo molti lo definiscono come uno dei primi giochi veramente next gen proprio per queste dinamiche. Altre persone invece dicono ma che diavolo ma no soltanto per questo dovrebbe essere un gioco next gen quello che mi aspetto dalla next gen è ben altro non queste meccaniche curiose fighe un po' innovative da certi punti di vista che però insomma sono un po' limitate e dal mio punto di vista hanno ragione anche queste persone. perché dico questo? È quello che ci dobbiamo aspettare dalla next gen? Sì e no. Quello che io penso è quello che ci possiamo aspettare adesso dalla next gen cioè da un titolo che esce all'indomani della commercializzazione delle console di nuova generazione e di nuove linee di schede video da parte delle produttrici. perché il discorso lo feci già ai tempi della famosa demo dell'Unreal Engine 5 che lasciò tutti con la mascella slogata me compreso dicendo oh mio dio ma che figata e mi state dicendo che questa cosa è renderizzata da PS5 ma allora la next gen sarà assolutamente una figata. La risposta è sì però però quello che abbiamo visto durante quella demo per esempio è quello che ci immaginiamo noi dalla next gen cioè l'effetto wow lo stacco pesante rispetto al mondo del gaming che stiamo vivendo adesso se mai ci sarà perché io sono convinto che l'effetto wow non ci sarà mai più come tra PlayStation 1 e PlayStation 2 per dire io quello me lo ricordo ancora come se fosse ieri la prima volta che ho visto il primo Gran Turismo girare su PS2 mi sembrava proprio un altro pianeta completamente io non credo che avremo mai più quell'effetto wow ma avremo uno stacco importante ma non ce l'avremo subito ce l'avremo fra un po' di tempo perché i giochi che sono in sviluppo per quest'ambiente e che sono in sviluppo con la consapevolezza dell'ambiente next gen al momento non ci sono proprio ragazzi i giochi in commercio sono stati sviluppati già da anni con un hardware più vecchio in mente e moltissimi escono anche per la vecchia generazione ma ha perfettamente senso questo dal punto di vista commerciale sono ancora poche le persone che hanno PS5 e Xbox Series X specie in questo periodo in cui proprio le unità non ci sono mancano completamente perciò è normale che i giochi che hanno delle caratteristiche next gen e posso parlare anche per esempio del nuovo Ratchet & Clank che è stato mostrato in alcuni sprazzi di gameplay quello è un altro dei pochi giochi che sarà esclusiva PS5 per la stessa ragione perché deve renderizzare velocemente dei mondi differenti in cui Ratchet e Clank si muovono attraverso una sorta di portali eccetera è una cosa che è assimilabile a quello che fa The Medium è diversa me ne rendo conto ma si tratta sempre della stessa cosa e gli sviluppatori hanno già detto no non uscirà per PS4 perché per PS4 non è assolutamente in grado di gestire un gioco come questo ok perfetto ma è quello che ci possiamo aspettare fino adesso ragazzi se volete di più da Next Gen secondo me bisogna aspettare non ci sono cazzi ed è normale ed è normale provate a pensare allo stacco tra i giochi pubblicati all'inizio del ciclo vitale di PS4 e mettetele a confronto con The Last of Us Part 2 che io ho giocato su PS4 mi sembrava un'altra console rispetto a dei giochi che ho giocato all'inizio del ciclo vitale di PS4 ci sono tanti anni di differenza ci sono tanti anni di sviluppo di un gioco che devono essere conteggiati quando si pensa a giochi Next Gen molti dei giochi che vedremo fra 4 anni sono in sviluppo adesso in questo momento i giochi che vedremo a fine generazione PS5 probabilmente qualcuno ci stanno iniziando a lavorare ora proprio in questo momento qui e quindi li vedremo fra un bel pezzo c'è un forte delay e spesso i giocatori questa cosa se la dimenticano i giochi che sono in sviluppo adesso noi li vedremo fra un bel po' cioè quelli che sono in un stadio diciamo iniziale o anche medio di sviluppo non usciranno a brevissimo The Medium è stato pensato certamente per la Next Gen è stato pensato per la Next Gen senza la consapevolezza reale e l'abitudine a lavorare su questi ambienti gli sviluppatori col tempo si abituano a un certo ecosistema ne capiscono meglio come sfruttare al 100% la potenza delle nuove console per esempio è sempre stato così e sarà così anche in questa generazione quindi la mia risposta a chi si chiede ma è davvero un gioco Next Gen The Medium io gli rispondo sì e no non è Next Gen per quello che uno può pensare per esempio confrontato con la demo di Unreal Engine 5 mostrata che gira su hardware PS5 ma allo stesso tempo lo è perché è la Next Gen che ci possiamo permettere di avere adesso considerando il mercato videoludico questo è quello che penso ragazzi e fatemi sapere un pochettino voi che cosa ne pensate nella fattispecie fatemi sapere se intendete giocare a The Medium per esempio io assolutamente sì pur non essendo tanto il mio genere però sono molto intrigato da questa cosa voglio assolutamente provarlo prego che la mia 1080 faccia ancora il suo dovere per un po' in maniera dignitosa dovrei esserci dentro i requisiti medi però comincio a essere dentro i requisiti medi io con la mia 1080 quindi il salto si sta facendo ma è soltanto l'inizio fatemi sapere che cosa ne pensate voi d'accordo ragazzi bene io direi che è tutto per questo video grazie mille per averlo visto noi ci vediamo al prossimo e come sempre ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al secondo canale seguitemi su Twitch lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram tutti i link per supportare il canale e il link alla playlist con tutti i video delle mini news d'accordo ragazzi a presto a presto